Nasce questa cosa spontanea perché la città di Catania è allo sbando ormai, ma da anni, questi sono almeno 12 anni che è allo sbando e vorremmo riservare un futuro migliore alla città di Catania, per cui questa iniziativa parte da me e aderisce decine e decine di medici già dell'ospedale Garibaldi perché vorremmo proporre a Enzo di candidarsi come sindaco e credo che questa istanza non sia sentita solo dai medici dell'ospedale Garibaldi ma un po' ho capito da tutta la città, infatti stanno nascendo tanti altri comitati di cittadini che vogliono vedere rivivere Catania. Noi intanto diciamo una cosa che tutti questi medici non siamo politici, non siamo iscritti a partiti, siamo persone che semplicemente vivono a Catania, anche tanti medici abitano a Catania ma vivono poi di fatto a Catania e vorrebbero vedere questa città risorgere, d'altronde noi ne abbiamo avuto un esempio più di 12 anni fa quando Catania era veramente il fiore all'occhiello di tante città italiane, noi al nord eravamo conosciuti, ma al nord mi capitava di andare in negozi e i commessi conoscevano quel sindaco, magari non ricordavano il nome Enzo Bianco, però quel sindaco che avete voi, dicevano, per cui si potrebbe rivivere e questo significerebbe anche alla fine non costringere i nostri figli ad andare via da Catania.